L'inizio della stagione è stato positivo perché due punti sono stati portati a casa e questo era importantissimo, essenziale per una squadra nuova come la nostra, per fare gruppo ancora di più, poiché è un campionato molto equilibrato. Sono molto contenta della vittoria, c'è tanto lavoro da fare ancora, come è normale in una squadra completamente ristrutturata e con persone che non hanno mai giocato insieme, quindi ci vorrà un po' di tempo, ma il lavoro pagherà, il lavoro in paestra pagherà sicuramente. La prossima partita è molto difficile, molto ostica perché sono ragazze giovani, fastidiose, spigolose, ma noi metteremo quello che non abbiamo messo nella prima partita e aggiungeremo qualcosa di più per ottenere il risultato che dobbiamo ottenere.